Brutto risveglio questa mattina per soci e volontari del Circolo di Legambiente di Andria. I gnoti infatti hanno tentato di forzare la serratura d'ingresso della sede di via Riccardo Ottavio Spagnoletti nel cuore del centro storico della città, a pochi passi dal comune di Piazza Umberto I. Providenziale l'intervento di alcuni vicini che allarmati dai rumori hanno messo in fuga i malviventi. Diversi danni e denuncia sporta in commissariato. Purtroppo questa mattina c'è stato un brutto risveglio, appunto come ben dicevi. Siamo stati chiamati dai vicini perché hanno appunto verificato questo tentativo di irruzione nella nostra sede avvenuto nella notte. Infatti sono stati proprio loro fortunatamente ad intervenire e a mettere in fuga questi malviventi che cercavano di entrare appunto nella nostra sede. Che cosa potevano trovare dentro la sede di Legambiente? Ce lo siamo chiesti in tanti. Infatti questa è la domanda che tutti ci stiamo un po' ponendo stamattina. Volevano comunque fare irruzione nella nostra sede e magari ci veniva anche una battuta. Avrebbero potuto acculturarsi visto tutto il materiale informativo e tutti i libri che ci sono all'interno. Quindi non avrebbe fatto neanche male. Non c'è nulla naturalmente di prezioso, non c'è nulla di valore. Avrebbero sicuramente creato danni come comunque è stato fatto. Perché adesso saremmo costretti a sostituire la seratura e a sistemare la porta. Si può parlare di fatto di un atto vandalico. Legambiente comunque si sta occupando anche di tanti temi particolari. E mi dicevi prima è stata già sporta comunque denuncia. Sì, sì. La prima cosa di cui ci siamo preoccupati stamattina è stata di andare presso la Polizia di Stato a esporre denuncia. Non vorremmo entrare nei particolari cercando il motivo tra il nostro veramente impegno in diversi casi piuttosto importanti a livello ambientale. Pensiamo solo che sia solo un atto vandalico e cerchiamo solo di stare più attenti. E comunque abbiamo anche attenzionato la Polizia di Stato ad essere più presente nel centro storico. Grazie a tutti.